E' morto investito da un camioncino della nettezza urbana. E' successo questa mattina a Roseto degli Abruzzi, intorno alle 7 e mezza. Si tratta di un 78enne originario di Foggia ma residente nel comune del Teramano. Il pensionato a quanto pare stava attraversando la strada quando il compattatore di rifiuti lo ha travolto mentre in retromarcia provava a caricare un bidone dell'immondizia. L'uomo è morto sul colpo, sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri, vigili del fuoco e due ambulanze ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze e fatti rilievi. Secondo una prima ricostruzione il pensionato non si sarebbe accorto del mezzo mentre attraversava la strada con la spesa in mano. Inizialmente è stato complicato riconoscere la vittima perché l'uomo non aveva con sé alcun documento di riconoscimento. La conferma della sua identità è giunta poco dopo da un familiare. Nei confronti del conducente dell'ecocompattatore in stato di shock al momento non sono stati adottati provvedimenti né sono state formulate accuse.